Omae wa mou shindeiru. NANI? ORA TAKUBI DE HIZEBUL! Ora iniziamo la nuova sfida che sarà disegnare cose belle. Ma perché siamo così? Credo che sia stato bella caduta. Vabbè iniziamo la sfida che non c'è voglia di perdere tempo lol. Perché dobbiamo fare questa sfida se siamo spastici e poi siamo spiaccicati e boh. Perché sì ora iniziate. Ma non dobbiamo fare l'eliminazione dura. Oddio come ho fatto a dimenticarmelo. Eliminazione DUNA! No ora sono depreso non voglio più fare l'eliminazione ma ora vado a piangere come un depreso. Ciao sono TV di BFDI. Da quando i mondi Duna Beach e BFDI sono collegati? Non lo so manco io, ma ora iniziamo con l'eliminazione. Io sono tornato normale assurdo! Non perdiamo tempo perché Suskito mi ha pagato un centesimo per sostituirlo. Passiamo al punto, l'olio è stato eliminato con tredici voti. Ok ora sono tornato dalla mia depressione. Comunque avevamo ricevuto trenta voti che è il triplo della scorsa volta, che bello! Ho finito, vi piace il disegno che ho fatto? Dato che Bomander è stato l'unico a disegnare, ha vinto l'immunità! Cosa? Ma io l'ho disegnato! Scrivete nei commenti chi è eliminato da Conta Lionelone, Brancollo e Faccia da Culo. Votare finisce da 48 ore. Ciao!